una trasmissione in collaborazione con fondazione cassa di risparmio di trieste buon pomeriggio benvenuti a una puntata un po particolare di trieste in diretta quest'oggi infatti assieme ai nostri due ospiti discuteremo di questioni collegate alla festa della alla festa della repubblica nella seconda parte sarà con noi franco del campo nella prima parte sono molto contento quando torno a trovarci la odio adesso per i nomi mamma mia chiedo scusa è un lapsus abbiate paziente non c'è problema ci conosciamo da una vita quindi comprenderete che in questo periodo noi siamo anche un po stanchi per via del lavoro per seguire guarda caso le prossime elezioni dottoressa mocavero è vicepresidente nonché componente dell'esecutivo nazionale dell'associazione donne elettrici io ricordo sempre una 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 gaffa di un mio collega paolo picchieri che una volta di donne elettrici o elettriche che fu abbastanza clamorosa approfitto anche per salutare paolo picchieri che è una persona di una grande correttezza non è l'unico non è l'unico allora per parlare proprio del non tanto della festa della repubblica in sé quanto del fatto che mi corregho se sbaglio dottoressa al referendum per monarchia o repubblica per la prima volta le votarono anche le donne le donne votare per la prima volta è vero il 2 giugno però avevano votato nel maggio per le amministrative per le amministrative che non avevano mai votato e po però ancora non erano elegibili perché un decreto successivo il decreto togliatti de gasperi che poi buonomi era il presidente quindi siamo anche che dobbiamo per dire che c'era il suffragio universale noi siamo abituati no al ormai al suffragio universale una cosa che noi sembra persino curioso dover dover riflettere ma che cosa a parte che se vogliamo proprio girare ancora di più il coltello della piaga parliamo di un periodo in cui insomma sotto il fascismo manco si votava per cui insomma anche questo solo in italia però ecco che cosa che cosa significava togliere dalla popolazione elettorale una fetta importantissima del del paese quale quella rappresentata dalle donne ma guardi il novecento avviene una rivoluzione perché se lei pensa che le donne erano equiparate agli analfabeti ai condannati quelli che non potevano votare e quindi l'altra parte del cielo diciamo non andava a votare perché le donne erano geneticamente non affidabili guardavano la famiglia guardavano le cose e comincia nell'ottocento questa richiesta di diritti ma se lei pensa oltre a questo l'uomo c'era loius corrigendi dell'uomo per cui l'uomo correggeva poteva dare anche qualche paternale non poteva amministrare il suo patrimonio la dote che il padre gli dava veniva amministrata dal marito quindi è un cambiamento enorme non si è concluso ma è partito e credo che sia l'unica rivoluzione attuata del novecento che ne ha iniziate molte lei ha detto una cosa abbastanza fondamentale è un cambiamento che non si è che non si è concluso perché c'è soprattutto per quanto riguarda la politica c'è questa sperequazione perché insomma alla fine non si votano le donne e io trovo francamente adesso si possono anche fare delle volte mi hanno fatto notare anche che quando si dice si possono fare delle battute in genere si entra in un territorio un po' pericoloso perché la battuta può significare anche altro eccetera però al di là delle battute che si possono fare o non si possono fare eccetera però io non mi pongo minimamente il problema di c'è se una persona è intelligente non applico né quote rosa né casomai applico quote grigie cioè quote di intelligenza però è anche vero che c'è da parte da parte forse beh in italia più che da altre parti una renitenza a votare a scegliere a scegliere una donna beh ma guardi ci sono delle motivazioni la donna è molto presa tra lavoro e famiglia perché ancora i compiti della famiglia soprattutto nel nostro paese sono abbastanza accentrati sulla donna ci sono mille motivi che ancora rendono il potere maschile si perpetua e per entrare non sempre viene scelta la migliore ma c'è una scelta che spetta da sei partiti non ci sono più ma insomma c'è sempre chi quindi è difficile non ci sono i servizi sociali per le donne non ci sono i asili nido che in altri paesi ci sono e che aiutano molto quindi la donna fa fatica ad affermarsi non è questione di mettere quote è questione di che la società sì sì che partita un po in ritardo in italia prenda appunto questi servizi asili nido per gli anziani perché insomma sul se i nonni aiutano molto ma a volte poi sono anche un peso che bisogna giustamente chi lo fa la donna c'è una frase io ricordo non si cita un filosofo eccetera ma mi piace citare 20 anni 23 anni fa ancora mi ricordo esattamente a una ci fu una notte degli oscar che venne dedicata alla figura femminile del cinema l'ultima presentatrice di quella di quella serata fu barbara streisand che dice che disse una cosa che io ancora ben presente dice vorrei che non ci fossero più occasioni di questo genere perché se non ci fossero più occasioni di questo genere vorrebbe dire che siamo esattamente pari e che non ci sono più discriminazioni e poi quando diciamo uguali è sbagliato perché sono le differenze che fanno la società però mi porge su un piatto d'argento una battuta da una citazione cinematografica dalla costola di Adamo quando spencer 3 si dice c'è una sola differenza fra uomo e donna vive la differenza ma insomma certo è la differenza rende la società siccome la democrazia è la società deve essere espressa in tutte le sue manifestazioni le sue possibilità perché insieme le cose si fanno meglio c'è anche una cosa da dire poi dopo magari torniamo proprio al periodo io credo che semmai c'è stata un personaggio nella storia politica italiana recente che avrebbe meritato clamorosamente di essere il primo presidente donna della repubblica sarebbe stata emma bonino che ha tutte le qualità di coraggio di impegno anche non so se il termine anche la tigna di di ed è sempre stata diciamo così anche abbastanza non voglio dire autonoma è stata anche quasi sempre presa in giro no perché da quattro elezioni a questa parte questa è la volta buona che c'è una donna questa è una donna e in alcuni casi vabbè lasciamo lasciamo perdere torniamo ha perfettamente ragione torniamo al 40 al 46 eccetera ci fu un per quello che si tramandano ci fu un impegno come posso porre la domanda un impegno politico anche delle donne in quell'occasione oppure era ancora la meraviglia la contente noi non siamo stati come altri paesi dove le donne sono scese in piazza anche in maniera abbastanza violenta sì ma hanno cominciato nell'ottocento non diamo tutte le colpe al fascismo che ci era già tante però non hanno mai fatto l'inghilterra parte prima con alla fine dell'ottocento primi del novecento noi ce l'abbiamo in effetti ai primi del novecento una donna adesso mi sfugge il nome però eravamo un paese distrutto abbastanza abbiamo avuto due guerre che ci hanno portato su altri impegni c'era bisogno di mangiare c'era bisogno dei bambini facevano le armi loro cioè le donne sono state impegnate per cui sono stati distratti da questo che era una ricerca per se stesse tutto sommato poi per un certo periodo la chiesa anche non era d'accordo mentre poi più 12 è d'accordo quando si fa il ed ha il suo placet tranquillamente all'epoca del decreto togliatti dei gasperi cioè c'erano motivazioni da scusare non c'è stata una vera impegno però mi piace ricordare a quell'epoca nasce da una parte da parte comunista l'uomo di unione donne italiane e dall'altra parte facciamo tutte insieme proprio si stacca una parte cattolica che è il cifre sono le due le due forze che spingono perché i due si decidano a fare questa non dico che se non ci fossero state allora però parliamo già del 45 46 però è in quell'epoca che nasce lande perché appunto vuole essere appartitica e vuole dire solo alle donne guardate adesso stiamo per andare a votare informatevi perché non avere il diritto non vuol dire essere in grado di usarlo non è che andate andate là come il vostro sacerdoto come vostro marito dovete avere delle idee dovete informare perché insomma eravamo un paese con molti analfabeti con molti cioè e quindi queste donne nell'anno in cui parlo io si mettono a girare con la topolino queste signore anche della buona società e cercano di dare informazioni perché appunto una società democratica se non è informata non è non è non è non è in grado di esercitare i diritti che ha quindi nasce in questo libertà significa conoscenza per cui appunto è tutto l'anno e anche mezzi che ci mettono come i voci che ci mettono in condizioni di sapere lande adesso qual è il il continua anche quest'opera di di essere terza di informare sì noi siamo scesi in campo solo quella volta di segni per la riforma di solito cerchiamo di informare poi ognuno di noi si fa le sue idee e da questa diversità credo che nasca anche una visione insomma abbastanza di collaborazione perché la politica vuol dire anche rappresentare una società diversificata certo c'è una cosa da dire no ed è sollecitata anche dal anche dal nome stesso associazione nazionale donne elettrici c'è questa disaffezione al voto che io trovo sia da un lato pericolosa molto pericolosa questo un altro per certi aspetti incomprensibile perché voglio dire uno può essere scontento disaffezionato però ai metodi il voto è il metodo per 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 come dire esprimere questo 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 malcontento adesso poi non voglio entrare nello specifico però vuol dire non votare è una è una diminuzio per me è un obbligo è un diritto dovere diciamo io sono d'accordo e anzi mi fa piacere essere qua proprio per dire abbiamo tanto fatto per avere questo esercitiamolo perché la democrazia senza partecipazione non è democrazia se noi non partecipiamo non ci possiamo lamentare non ci siamo e poi potremmo dire però vorremmo altro è la politica e l'arte del possibile però cerchiamo il possibile io adesso voglio citare mi consente solo glielo raccontato prima quello che è un un piccolo un piccolo eroe civile che è il figlio di una mia una mia amica si chiama giacomo purtroppo non so non so non so il cognome e di questo chiedo scusa che in occasione del referendum sulle sulle trivelle lui studia studia a torino in occasione del referendum sulle trivelle si prese il treno venne a trieste pranzò a casa andò a votare bravissimo ritornò ritornò a torino è un piccolo grande eroe eroe civile quando io ho letto io sono di un cinismo tale che ho poche poche tendenze alla commozione ma quando questa mia amica ha raccontato questa storia ho trovato di un di un non ci vuol niente a venire da trieste a torino diciamoci la verità però averlo fatto questo è un po tipico dell'italiano che guarda il suo giardino finché nel suo giardino non succede niente lui non si preoccupa e non capisce che dobbiamo partecipare dopo è troppo tardi e la democrazia senza questa partecipazione quando anche nella città succede qualcosa la cittadinanza deve essere in genere deve dire deve far sapere la propria idea deve partecipare secondo me non solo con il voto ma anche se no è una democrazia dopo finché non ci colpisce direttamente non ci lamentiamo e ci va tutto bene deve arrivare proprio tardi troppo sì delle volte troppo tardi quando ormai troppo tardi bisogna c'è un'iniziativa dell'ande prevista per mercoledì per mercoledì prossimo alle 17 30 l'hotel eccelsiorno se non si avremo il ballottaggio tra i due che sono stati scelti dai cittadini e dai e vedremo quale ognuno sceglierà dei due ed è il consueto appuntamento che l'ande dedica ai candidati ai candidati sindaco delle volte mi pare che quando il numero non era così enorme riuscivate anche a farlo prima o ne facevate due addirittura no abbiamo visto che erano tante le coincidenze che abbiamo preferito fare dopo perché mi è sembrato che poi scattare qualcuno non è bello farli venire tutti mi sembrava quindi l'appuntamento è per il mercoledì prossimo 8 di giugno alle 17 per prendere le ultime decisioni io quando ho la possibilità di avere ospiti persone come la dottoressa mocavero in genere poi anche diciamo così devio dal dal dall'argomento principale ai mi preoccupa la cosa perché so che perché so che mi è consentito e con la dottoressa mocavero possiamo parlare anche anche un pochettino di letteratura voglio dire senza uscire troppo dai dai perimetri diciamo così della dai perimetri della storia non a caso in questo momento sto leggendo ma per puro caso davvero il la storia di di elsa morante che è un romanzo grande molto bello di un italiano scritto in un italiano forse non non perfetto ma volutamente abbastanza immagini abbastanza immaginifico sì e questo libro praticamente ti racconta quello che la dottoressa accennava qui la dottoressa faceva accenno prima cioè anche come si viveva nel nel nostro paese in quegli anni per esempio noi la mia generazione non può conoscere che cosa significava dover ricorrere al mercato nero per avere qualche cosa da mangiare ma non per avere da mangiare la prelibatezza eccetera per avere farina per aver riso mi permette una cosa io mi ricordo mia madre eravamo sfollati in campagna che uscì con bellissimo cappottino verde nuovo uscì era marzo e tornò senza cappotto con due polli questo è se lo raccontiamo a uno di 18 anni pensa che che stiamo raccontando siamo a marzo e con quei due polli quanto avete per esempio tanto per rimanere su storia di famiglia mia madre odia il riso sì perché perché durante la guerra avendo fra l'altro la possibilità di mangiarne parecchio perché mia nonna doveva fare delle diete a base di riso quindi aveva credo una specie non credo che avesse una sorta di di tessera insomma quindi questa famose tessere abbastanza di continuo e mia madre ha una un fastidio proprio per per il riso e quando dico scherzando ma perché la risposta è ne ho tutto il riso che con mangiare durante la guerra non posso averne voi adesso eccetera ma sono voglio dire sono realtà che contro contro le quali andiamo a a cozzare noi che non le abbiamo vissute no penso che oggi forse la colpa della nostra epoca che abbiamo avuto molti sacrifici e non abbiamo e abbiamo con i figli un po troppo quando c'è stato il boom quando c'è stato la il momento che l'italia si è ritirata su così bene è stata così brava forse non abbiamo capito sì che era bisognava usarne ma con molta con grano salis tanto per invece quello che non abbiamo avuto nella nostra infanzia l'abbiamo lasciato forse un po troppo ai nostri figli che che adesso li vediamo in difficoltà adesso paura che c'è un quindi sono motivi momenti che ci lasciano e quella era un'epoca così dopo siamo andati al parte opposta forse dando per certi aspetti è comprensibile sì è l'uomo sì c'è un'altra cosa ho citato non a caso l'amorante perché esiste una generazione di autori che ha raccontato quel periodo del nostro paese attraverso sfaccettature le più varie per esempio non so fenoglio e pavese ti raccontano le esperienze della guerra partigiana e del post guerra partigiana la ginsburg narra diciamo così le vicende molto familiari eccetera pratolini riesce ad essere sia così quasi ma anche i film che abbiamo fatto in quell'epoca erano tutti i lati di bicicletta abbiamo avuto siamo stati un momento che eravamo veramente la tragedia che abbiamo passato l'abbiamo raccontata ed abbiamo avuto anche grandi soddisfazioni però perché poi sono una città però perché soprattutto la letteratura i capolavori del neuralismo sono ancora conosciuti noti eccetera visti eccetera la lettera io non riesco a capire perché la letteratura di quel periodo non è non è più tanto frequentata per certi aspetti qualcuno potrebbe dire ancora meglio perché così la si può riscoprire io in questo periodo sto proprio leggendo delle cose e mi trovo di fronte a delle a delle dottore posso dirle una cosa che io vorrei oggi che tanto ci raccontassimo quello che stiamo vivendo e che non troviamo le parole è una tale tragedia che mi permetta che oggi affrontare quello che ci sta succedendo è veramente il coraggio di raccontarlo ecco veramente e ci dovrebbero essere questi libri ma vorrei anche una letteratura impegnata sull'oggi che non trova le parole per esprimere una società veramente angosciante secondo me però è un paradosso ne riflettevo con quella professoressa benussi al telefono due giorni fa è un paradosso che il cinema degli anni 60 60 primi la commedia italiana dai diciamo la verità è riuscita a raccontare quel periodo in maniera tremendamente reale e ancora adesso se noi prendiamo se noi prendiamo alcuni di quei film il medico della mutua potrebbe potrebbe essere uno il sorpasso potrebbe essere i mostri ne abbiamo ne abbiamo di belli riescono ad essere ancora attuali a parlare di un italia di oggi pur essendo stati concepiti e scritti ormai alcuni viaggiamo verso i 60 anni fa è però adesso dovremmo scrivere qualcosa e io almeno non leggo forse vizi è l'unico che riesce e non lo so però veramente a scrivere mi perdoni lei parla di scrittura si giusto io trovo che la vita è sempre un impegno scrivere no qualcuno deve raccontare qualcosa non leggo se lei legge libri oggi c'è una evasione abbastanza dall'oggi e questo lo capisco anche perché perché l'oggi fa sì perché dovremmo fare quello che lei ha detto prima dovremmo probabilmente anche molti non lo so serie autocritica mi piace una letteratura impegnata quando uno scrive io mi preoccupo più di quello che si sta scrivendo di ciò che si è scritto e non vedo comunque le parole servono appunto secondo me è importante che il giorno che la nostra epoca trova la sua soluzione letteraria troverà anche la sua soluzione pratica questa è una bellissima frase posso usarla anche ogni tanto mi chiedo troppo buono allora io ringrazio siamo siamo in chiusura di questa prima di questa prima parte anche perché ricordatevi che oggi essendo essendo giovedì nella nello spazio dalle 19 circa più o meno alle 19 25 c'è l'appuntamento con chiedo scusa il programma tisani unguento e tisane unguento e casce come sempre ogni ogni giovedì subito dopo di noi c'è franco del campo con il quale parleremo segnatamente della della costituzione e di un'iniziativa collegata attorno alla costituzione nel salutarla dottoressa carla mocavero che vicepresidente della sezione triestina dell'ande e componente il direttivo nazionale vi ricordo ancora l'appuntamento di mercoledì mercoledì 8 credo sia mercoledì al savoia 5 e mezzo al savoia alle 5 e mezza e ricordatevi insomma non toccherebbe a noi però domenica andate a votare prego grazie ancora dottoressa grazie a lei seconda parte della puntata di oggi di trieste in diretta siamo in compagnia di franco del campo buonasera del campo grazie per essere tornato grazie a trovarci con il quale parliamo della della costituzione insomma oggi è la puntata speciale del 2 del 2 giugno quindi ci occupiamo di questi di questi argomenti abbiamo parlato con carla mocavero del del voto del voto alle donne eccetera adesso parliamo della della costituzione allora è davvero la domanda è molto semplice è la più bella del mondo ma secondo me e non soltanto secondo me assolutamente sì e l'aspetto che secondo me va sottolineato al di là dei principi dei riferimenti che a cui si appoggia e su cui si fonda 12 articoli principi fondamentali qui si è la sinteticità la apertura anche a chi è analfabeta come erano molte abetti in quella fine degli anni 40 e l'ascolta e capisce immediatamente di che cosa si sta parlando si sta parlando di noi sta parlando dei nostri diritti dei nostri doveri dei nostri doveri e questo è un aspetto che secondo me è assolutamente clamorosamente bello la costituzione no ci parla anche seppure indirettamente degli uomini che degli uomini che l'hanno scritta e quando si risentono nominare determinati personaggi noi che li abbiamo conosciuti soltanto per averli studiati immagino anche chi era 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 già nato ed era assenziente in quel periodo immagino che provi anche qualche qualche piccolo brivido perché insomma ci troviamo di fronte veramente in alcuni casi alla definizione di padri della patria ma di quelli che sono stati veramente i padri ricordiamo padri e madri e madri non ce n'erano tantissimi ma c'erano le donne non dimentichiamo che l'assemblea costituente viene formata nasce proprio il 2 giugno del 46 quando nasce la repubblica con il referendum tra monarchia repubblica due milioni di voti in più per la per la repubblica e quindi questi danno la l'impronta l'impronta fondamentale alla legge fondamentale di tutti noi per i tuoi studi no il periodo la costituzione è legata alla è legata al 2 giugno insomma anche se non c'è non so se esiste proprio una festa della costituzione no è il 2 giugno insomma no 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 la festa della costituzione non c'è la costituzione viene firmata il 27 dicembre del 47 e viene promulgata il primo gennaio del 48 e allora lascia che ti anticipi in qualche modo anche per spiegare perché sono qua oggi perché io non sei sia io sono un stimatore della della costituzione l'ho insegnata l'ho insegnata l'ho divulgata quando insegnavo appunto al liceo ma credo di essere oggi qua perché abbiamo realizzato qui a trieste un elemento un avvenimento microscopico per certi aspetti ma anche per certi aspetti assolutamente eccezionale perché abbiamo fatto un piccolo progetto che si chiama per una sana e robusta costituzione in piscina ed è questo l'elemento che insomma da specialità energia particolarità io credo anche un certo orgoglio a trieste perché una cosa di questo genere un impianto sportivo monumentale finché si vuole però che organizzi promuova divulghi faccia vedere faccia leggere gli articoli fondamentali della costituzione in un impianto sportivo è una cosa che io credo è un record italiano e forse un record mondiale però volevo chiederti il riguardo al 2 giugno poi dopo torniamo alla costituzione riguardo al 2 giugno per quelli che sono i tuoi studi eccetera c'era una fortissima contrapposizione a livello diciamo così di campagna elettorale perché si capisce poco voglio dire leggendo anche repubblica domenica domenica scorsa nella pagina della cultura aveva riportava delle delle testimonianze non si comprendeva qual era veramente la la come dire con i toni di quella campagna di quella campagna elettorale ma è stata una campagna elettorale assolutamente straordinaria e anche durissima per certi aspetti e per altri aspetti anche invece civilissima pensiamo che si usciva da più di un vintegno di dittatura certo che prima c'era stata il per poco il suffragio universale o maschile che la prima volta che votavano le donne che c'era questa idea di repubblica che si nasceva nel nostro risorgimento ma poi in qualche modo era stata scavalcata accantonata dalla 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 monarchia dalla monarchia sabauda risorgimentale da una parte complice del fascismo successivamente che per cui c'è una piccola citazione oggi di un bellissimo articolo di una bellissima intervista di benigni alla repubblica non a caso per cui diceva nel mondo contadino ma non soltanto per quando si diceva una gran confusione si diceva ma cosa volete fare una repubblica come dire confusione perché poi repubblica veniva anche abbinata alla democrazia al parlamentarismo alle discussioni eccetera invece quando c'è uno soltanto che decide non c'è sicuramente e quindi è stata durissima ci sono state anche delle grandi polemiche dopo il dopo il referendum per cui si pensava che i brogli elettorali di cui due milioni di voti sono differenze diciamo tanti o soltanto due milioni di voti ecco infatti poi ti avrei chiesto questo non se se sono tanti o se sono o se sono pochi perché qualcuno potrebbe pensare appunto il savoia corrisponso sì ma sì dai poi umberto secondo in qualche modo sì lui umberto secondo sì 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 effetti ci sono parecchie scuole di pensiero c'è qualcuno anche che dice se vittorio manuele terzo abdicava già nel 43 e consegnava tutto qua i savoi come noi savoia regniamo uno alla volta mi sembra che però ecco due milioni di voti sono tanti sono pochi ma erano tanti erano pochi ma diciamo che alla fine possono essere anche tanti perché poi pensiamo questa questo referendum e poi questa costituzione sono questa costituzione è veramente il risultato della resistenza che è stata importante decisiva anche per la nostra identità e dignità nazionale ma è stata combattuta soprattutto nell'italia centro settentrionale mentre nell'italia del sud sì ci sono stati grandi episodi con quelli di napoli ma sono state le truppe alleate a liberare il sud e quindi c'era anche questa contrapposizione un sud arretrato e un nord avanzato operaio per cui gli operai combattevano sì per la resistenza forse anche per il socialismo ma soprattutto combattevano per le loro fabbriche perché i tedeschi volevano portarle portarle in germania no e quindi c'era questa grossa divisione e quindi a questo punto con tutte queste difficoltà con un popolo poco abituato alla democrazia sì perché vent'anni poco abituato alla democrazia non dimentichiamoci di una cosa che sì sicuramente la guerra la terribile guerra in cui il fascismo e Mussolini in particolare ha gettato l'italia ma fino a poco prima ci sono stati come ha spiegato renzo de felice gli anni del consenso e quindi il fascismo aveva un grande consenso aveva un grande paternalismo a parte poi la persecuzione gli antifascisti le fucilazioni il confino eccetera eccetera no però era il consenso era forte e diffuso e quindi questa idea paternalistica dello stato che si poteva riflettere in un nuovo re che in qualche modo si staccava dal padre proponeva un'impostazione probabilmente costituzionale non da soltanto da statuto albertino potrebbe avrebbe potuto anche giocare la carta della moglie che si sapeva benissimo che però insomma due milioni non sono pochi soprattutto in quel momento quanti secondo te di quelli della generazione nata diciamo così nella metà degli anni dalla metà degli anni venti in poi risposta l'hai un po forse anticipata ma te lo richiedo in maniera più quanti di questi hanno continuato a diciamo così a mettiamo a parlare bene potrebbe esserci anche un altro termine del fascismo perché in quel periodo erano comunque giovani perché in quel perché il fascismo era come dire coincideva con la loro con la loro giovinezza fondamentalmente e con tutta una serie di come posso dire di chiamiamoli benefit ma sì ma sì io parlo diciamo potuto chiedere a mio papà esatto ma esatto queste sono domande che avremmo potuto che io ho fatto anche mio padre eccetera è uscito recentemente un libro di battista su che prova il titolo di madre era fascista no è che mette in rilievo proprio questa ambiguità ma che non era ambiguità no questa passato questa fedeltà al proprio passato alla propria giovinezza non dimentichiamo poi dall'altra parte che il fascismo ha inventato lo stato sociale fascismo le colonie tutto il fascismo è stato negativo per moltissimi motivi soprattutto perché ha tolto la libertà agli italiani però poi cercava di ricompensare come spesso fanno hanno fatto tutti i regimi totalitari con tutta una serie di virgolette benefici no e allora se interrogassi mio padre che non a caso si chiamava benito scomparso da poco e che era affezionato alla sua gioventù ma anche a una certa idea di patria di italia di nazione di retorica che poi è stata devastata dal fascismo con la guerra soprattutto con tutto il resto no però però non si si poteva contestare ma non si poteva negare no quel pezzo di identità e quindi questo elemento poi forse qua trieste pochi che trieste non ha partecipato ci questo poi è un altro da mica che né al 2 giugno né alla componente quindi costituzionale su questo sì che non eravamo ancora parte integrante dello stato su questo si riflette talmente poco che io in questi giorni ho chiesto a mia madre ma ti ricordi la prima volta che sei andata a votare eccetera e mia madre mi ha fatto notare guarda che io non ho votato nel 46 io ho votato ho votato dopo quindi dice ero già abbastanza adulta eccetera quindi non era la come dire mio nipote adesso è eccitatissimo perché vota si è giustamente giustamente giorni insomma no però appunto è talmente poco noto secondo me emozione che non dobbiamo perdere secondo me e quindi questo è anche un altro aspetto non importante allora visto che non mi fai la domanda me la faccio da solo no ritornando all'aspetto iniziale che io parlerei ore e giorni su questi argomenti ne ho parlato ori giorni e anni no però allora come compensazione di questa trieste che è stata in qualche modo esclusa dal voto a causa ancora una volta della dei risultati della guerra della divisione trieste era il capolinea della cortina di ferro secondo church e noi quindi noi eravamo una piccola berlino nella nostra nella nostra divisione anche della tra tra zona a zona b eccetera quello che sarebbe diventata no e allora abbiamo compensato lo dico con ironia con 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 tanto rispetto questa questa mancanza questa nostra assenza con qualche cosa che veramente a mio avviso è piccola piccola se voi ti racconto di che cosa di che cosa si tratta con questa idea di fare in una che in una piscina perché una piscina ma perché 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 a me capita di avere almeno queste due anime almeno queste due identità di aver fatto sport nuoto in particolare da giovane di aver insegnato filosofia per 40 anni storia filosofia e altre cose e adesso sono direttore del centro federale trieste cioè della gestione della piscina bianchi comunale in città c'è questa piscina che forse molti hanno presente molti perché in realtà noi abbiamo un giro di persone che frequentano l'impianto saranno 200 mila all'anno no quindi non è cosa da poco come se tutta la città venisse andasse in realtà ci sono un po sempre gli stessi no ma insomma sono veramente tanti 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 molti di questi sono giovani molti sono bambini molti sono atleti molti sono le famiglie molti sono anche gli adulti e l'architetto che ha pensato questa piscina probabilmente non aveva voglia di fare una piscina aveva voglia di fare un museo l'ha fatto in qualche modo monumentale anche bello se piace con una certa grandiosità che diventa anche complessità e anche spreco nell'ambito della gestione e allora o abbiamo approfittato e abbiamo creato degli spazi dedicati alla cultura i libri io sono già stato ospite di questo ti avevo promesso una sorpresa e questa era la sorpresa che non ti avevo anticipato no e allora questa idea fatta anche poi l'idea di nuotare tra i libri che poi ha avuto anche l'affiancamento di di altre associazioni l'associazione ti con zero nati per leggere la biblioteca diffusa come a livello comunale eccetera però un certo poi io avevo questo sogno questo progetto nel cassetto da tanto tempo e allora me lo sono costruito pian pianino con materiali di risulta con pannelli che costavano poco niente che sono stati quasi aggiunti proprio se tu verrai e vedrai in piscina sono attaccati con le clips in modo che poi potranno essere tolti e sfogliati metteremo altri libri eccetera però il primo libro dentro il quale nuotare proprio per questo mio affetto così profondo nei confronti della costituzione doveva essere la costituzione proprio anche per quella bellezza eleganza e semplicità bellezza eleganza e semplicità che quasi sempre vanno insieme della lingua che anche uno straniero no un profugo un migrante che deve avvicinarsi quindi anche integrarsi in questa società italiana prima di tutto e poi anche europea ma che lì non possiamo insegnarli nella ne dante né petrarca né boccaccio neanche manzoni e neanche probabilmente manzoni che abbiamo bisogno delle note sotto anche noi quale lingua se non l'articolo 1 della costituzione no per cui l'italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro la sovranità appartiene al popolo e l'esercita nelle forme nei limiti della costituzione è la lingua che tutti devono sapere che tutti dovrebbero applicare e che tutti dovrebbero conoscere da qui che possiamo imparare con noi cioè tra l'altro no non lo rileggo sono meno di 140 caratteri è un tweet no ecco i padri e i padri le madri costituenti non conoscevano c'è un appunto la vedo c'è sì allora allora sono questi c'è questo percorso costituzionale così l'ho chiamato no c'è una bella foto che è stata molto utilizzata rifatta di una bella giovane ragazza 20 anni è nata la repubblica no c'è il correa della sera per la volta non c'era la repubblica dall'altra parte ho messo il la foto bellissima importante quando enrico de nicola presidente a tempo per pro tempore della repubblica italiana sta firmando il 27 dicembre la costituzione e la cosa bellissima quella che a parte i funzionari ha alla sua sinistra terracini umberto terracini presidente dell'assemblea costituente comunista ebreo perseguitato dal fascismo e dall'altra parte a alcide de gasperi presidente del consiglio democristiano e e de nicola era monarchico e questo il paradosso abbiamo il monarchico che firma la costituzione italiana repubblicana articolo 139 l'ultimo non può tutto si può cambiare ma non quello repubblica siamo e repubblica dobbiamo restare da una parte un comunista dall'altra parte il democristiano che però insieme socialisti partito d'azione tanti altri però diversissimi però hanno in comune che cosa hanno in comune la resistenza hanno in comune la lotta contro il fascismo per la libertà e con idee profondamente diverse però si mettono d'accordo eccezionalmente su questa costituzione che italia ci racconta poi perché no riformulo la domanda ma è benissimo che italia ci racconta è bellissima come domanda sì no 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 la mia idea era anche ti rispondo anche se non vuoi farmela ci racconta l'italia del futuro e dell'italia come avrebbe e come dovrebbe essere mi è venuto in mente quando tu quando raccontavi di questa di questa fotografia per una deformazione per una deformazione professionale per questo poi avrei voluto formulare meglio la domanda però in fin dei conti quella foto quella quella fotografia ti racconta anche l'italia poi di peppone don camillo quella che guareschi andava raccontando più o meno più o meno in quel periodo che era un italia forse ingenua forse forse non lo però c'è una un'immagine in italia straordinariamente sincera ancora dove io ho sempre in mente c'è nel film c'è anche nel libro dove questi peppone don camillo al termine di una delle numerose baruffe eccetera dipingono assieme le statuine del presepi io trovo che sia nel libro sia nel film finché per altro io ho incominciato a vedere tardi non so se forse ho apprezzato ancora di più da un punto di vista emozionale erano italia solidale perché usciva dal usciva dal conflitto forse c'erano ancora altri conflitti eravamo in piena guerra fredda ci mancherebbe però erano italia che assolutamente però ancora una volta ancora una volta più i film forse che il libro che i libri però alla fine che cosa vedi vedi che quelle due persone quelle due personalità che sarebbero e sono due giganti poi anche di uno diventa deputato l'altro diventa vescovo cardinale non so bene cosa ma poi alla fine quando bisticciano e anche dandosene in modo così ruvido ma alla fine avevano qualcosa di assolutamente comune e ancora una volta qual era questa cosa avevano fatto tutti due la resistenza e poi potevano darsele però però c'era questo patto comune e la costituzione intercetta quell'italia in qualche modo la sublima la elea è assolutamente l'espressione più bella e migliore e allora si parla anche di miracolo costituzionale miracolo laico evidentemente fatto dagli uomini anche se c'erano molti credenti anche non molti non credenti e il miracolo costituzionale qual è sono e nelle date e nelle date allora prova a pensare 25 aprile del 45 la liberazione l'anno dopo il 6 giugno del 46 referendum monarchia repubblica e vince la repubblica e poi 2 giugno 46 27 dicembre del 47 un anno e mezzo dopo scarso stanno mettendo già la firma su un documento fondamentale eccezionale bellissimo ripetiamolo no e che cosa è successo nel frattempo è successa la guerra fredda il governo di unità nazionale proprio nel mezzo del 47 de gasperi va in america c'è il piano marshall c'è la rottura tra la democrazia cristiana da una parte i partiti laici dal da una parte e il fronte popolare socialisti comunisti dall'altra che vengono espulsi dal governo perché gli americani dicono ragazzi con quelli che stanno con l'unione sovietica se ci sono loro non non vi diamo i soldi detta in estrema in estrema sintesi no vengono buttati fuori figurati adesso che cosa succederebbe e nonostante questo scontro durissimo nell'ambito dell'assemblea costituente continuano a lavorare perché sanno che c'è qualcosa di più bello più giusto e più importante rispetto a quella che era la guerra fredda e quindi pensa che qualità di donne e di uomini si è venuta fuori da quelle parti ti faccio un'ultima domanda della quale posso anche immaginare la risposta ma forse più che modificarla eccetera eccetera dovremmo semplicemente applicarla sì allora mi è stato mi è stato detto ma non farlo adesso tanto tempo stai aspettando tanto tempo aspetta dopo eccetera cioè allora intanto le parti gli articoli della costituzione che troverete in piscina bianchi non riguardano il referendum di modifica costituzionale e quindi la costituzione è al di sopra di questo referendum poi ci sono le posizioni ti riporto faccio un discorso di principio di autorità a quello che dice benigni oggi proprio in quell'articolo e anche un po' a quello che ho scritto questo parlamento a mio avviso e qua mi assumo l'onere della dd di quello che sto per dire è il parlamento rispetto a quello che abbiamo appena detto su assemblea costituente meno costituzionale che si possa esistere è uscito da quell'orrido porcellum che ci è stato messo per dispetto qualche anno fa e questo è quello che abbiamo e ciò nonostante c'è un tentativo di riforma costituzionale nelle regole della costituzione per cui si cerca di semplificare si cerca di fare quello che già i padri costituenti volevano fare la semplificazione la divisione tra camere senato con ruoli diversi eccetera eccetera per non allungarli via dicendo e in questo parlamento imperfetto come minimo imperfetto si cerca di fare questo e la critica che io faccio maggiormente qual è? che i nuovi pezzi della costituzione sono allontani mille miglia dalla bellezza della lingua della costituzione originaria però però è comunque un pezzetto di continuazione e perfezionamento so che ci saranno dibattiti terribili, tremendi tra il sì e il no una coorte di costituzionalisti per il sì una coorte di costituzionalisti per il no ce la leggiamo, ce la guardiamo andiamo a farci una nuotata in piscina questo quando? da oggi fino a tutta ottobre vedremo se riusciamo a coinvolgere le scuole con un progetto che è una mattinata in cui si può coniugare una nuotata, imparare a nuotare che è sempre utile, lo dicevano gli antichi romani i bravi cittadini devono saper leggere e nuotare in questo caso potranno nuotare e leggere la costituzione e in particolare l'articolo 54 della costituzione che dice sostanzialmente tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla repubblica e di osservarne la costituzione e le leggi i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore prestando giuramento nei casi stabiliti della legge disciplina ed onore ragazzi intanto sono state parole retoricamente abusate ma è uno dei principi fondamentali dello sport è uno dei principi fondamentali della cittadinanza disciplina e onore dovere di avere impegnarsi con disciplina e onore i giovani devono fare sport in questo senso e lo dovrebbero fare anche tutti gli altri grazie Franco Del Campo per essere stato con noi tra un po' Tisane e Unguenti Cachè grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti